Ha parlato! Il legno ha parlato! Ci sono favole che non hanno età e ci accompagnano tutta la vita. Pinocchio! 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 Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori. Prima o poi se ne pentiranno. Mi sento troppo mal di pancia. A scuola non capirei nulla. Sto male. Eh? Ci potrei andare anch'io a questo campo di miracoli? Tu? Ma certo! A che tu parti per il paese dei balocchi? Dal creatore di La Gabbianella e il Gatto. Lo prometto. Voglio diventare un burattino a moto. Così poi diventerò un ragazzino per me. Ma che razza di pesce c'è? Non sono un pesce. Sono un burattino. Bene! Un pesce burattino non ne ho mai mangiati. Il nuovo film di Enzo Dalò. E che ce ne importa a noi? Siamo mica zucchini noi. Lucignolo, cosa... cosa sono quelle orecchie? Buonasera, signor Mangiafoco. Adesso anche i burattini si mettono a fare i loro comodi. Pinocchio. Prossimamente al cinema. Glietta!